www.fipili.com Provinciale 24 di Marina di Pisa, ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra Calambrone e Marina di Pisa. Sull'Accordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze per il concerto di Ultimo in zona Stadio, possibili disagi per variazioni alla circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!